Contributi comunitari mediante dichiarazioni non veritiere in merito all'utilizzo di alcuni terreni in realtà non rientranti nella propria giuridica disponibilità. Temi tornati prepotentemente d'attualità sui nebrodi nell'ultima settimana dopo l'attentato al presidente del Parco Giuseppe Antoci, ma che effettivamente le forze dell'ordine perseguono da anni e che attraverso l'attività della Guardia di Finanza stanno portando anche a condanne di refusione. Proprio in questi giorni, sulla base delle indagini della tenenza di Capodorlando, la Corte dei Conti di Palermo ha inflitto condanne per 43.472 euro per tre agricoltori dell'area nebroidea. Salvatore Lupica di San Fratello, assistito dall'avvocato Lucio Di Salvo, dovrà restituire all'erario 6.965 euro per aver illecitamente percepito contributi comunitari dal 2009 al 2013. Oltre 11.000 euro, invece, li dovrà restituire Giuseppe Franchina di San Salvatore di Fitalia, difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia. Nel corso di indagini finalizzate alla verifica di presunta indebite percezione di contributi comunitari in agricoltura, la Finanza di Capodorlando ha riscontrato che l'uomo, all'atto della presentazione delle domande uniche di pagamento per il periodo 2010-2011, avrebbe attestato la fittizia disponibilità di alcuni terreni nel comune di San Marco. La terza sentenza, per un risarcimento da 25.417 euro, è stata infine inflitta a Salvuccio Contimica di Tortorici. In questo caso, la tenenza di Capodorlando ha appurato che l'uomo aveva presentato alla GEA domanda di pagamento nelle campagne relative agli anni 2009-2010, dichiarando di avere la disponibilità dei terreni nelle stesse domande individuati, ma, a seguito di specifica richiesta da parte dei militari, aveva prodotto soltanto una documentazione parziale. Grazie. Grazie.